La propaganda elettorale ha qualche mese dal voto per il rinnovo del Consiglio Comunale di Teramo e del Sindaco di Teramo perché non si tratta purtroppo di vedere qualcosa di tangibile, non ci sono né le risorse ulteriori che pure noi chiediamo da tempo avendone stanziate per 125 milioni, quindi circa la metà nella scorsa legislatura, né il programma, il piano sanitario che individua l'offerta, il contenuto del nuovo ospedale e voglio ricordare che senza avere un programma sanitario approvato e senza ovviamente le ulteriori risorse che servono, di quella roba che abbiamo visto ieri proiettata in un video non vedremo nulla. Non siete d'accordo immagino neanche sull'idea progettuale che avverte sul Mazzini? Ma il punto davvero da questo punto di vista non è parlare oggi del progetto rispetto al fatto che non esiste né l'offerta per capirci. Noi non sappiamo quali reparti metteranno dentro il Mazzini, quali tipi di prestazioni dovranno essere orogate ai cittadini, per esempio pare che si dica che il DEA di secondo livello neanche quello funzionale ci sarà, cambia tutto per esempio questo. E invece si fa una sorta di proiezione di un'immagine che può essere utile solo per una campagna elettorale. Ma io penso che nessuno si farà imbrogliare da tutto questo. È possibile presentare un progetto senza però avere neanche del tutto i fondi fino a questo momento? Assolutamente no, questo è un altro dei punti, ecco perché è soltanto propaganda elettorale. E infatti penso di poter lanciare una scommessa abbastanza semplice da poter vincere allo stato attuale. Non partirà nulla di quello che abbiamo visto perché non ci sono né le risorse né c'è il piano sanitario che individua le prestazioni, i reparti, quello che quel tipo di ospedale dovrà garantire ai cittadini a Teramo, nella provincia e nella regione. E in ottica amministrativa siamo a Teramo, non posso non chiederle, voi convergete di nuovo sulla figura di Gianluigi D'Alberto? Con forza, contenti e soddisfatti del lavoro fatto, ma con ulteriori obiettivi da traguardare nei prossimi anni. Vi aspettate Paolo Gatti come avversario? Ma è un problema del centrodestra, ci aspettiamo soltanto di batterli.